Prosegue e si evolve l'accordo per la gestione delle risorse idriche tra la regione Basilicata, la regione Puglia e il Ministero dei Lavori Pubblici. I presidenti Pittella e Emiliano e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Claudio De Vincenti hanno sottoscritto ieri a Roma il documento, valido fino al tutto il 2030, definito nelle more della eventuale stipula di un più ampio accordo fra le regioni del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale. Il primo accordo di programma sottoscritto dalla regione Basilicata, regione Puglia e dal Ministero dei Lavori Pubblici, ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, risale al 1999 e regolamentava i processi di pianificazione e gestione delle risorse idriche condivise tra le due regioni. L'accordo del 99 scaduto nel dicembre del 2015 ha consentito fino ad oggi una utile, efficace e condivisa gestione delle risorse idriche, consentendo ai due territori di superare eventi di crisi ed emergenza idrica. Finalità principali del nuovo accordo sottoscritto nella giornata sono il rafforzamento della pianificazione e gestione comune delle risorse idriche, la più puntuale definizione della tariffa dell'acqua all'ingrosso, la salvaguardia della fascia ionica lucana, il completamento degli schemi idrici tra Basilicata e Puglia e delle opere incompiute. Per l'attuazione dell'accordo è stato istituito un comitato di coordinamento presieduto dalla regione Basilicata, mentre le autorità di bacino di Puglia e di Basilicata costituiscono le strutture tecniche e operative del comitato e in tale veste potranno essere destinatarie di specifici finanziamenti.